E pensi sempre che tu è quello che non hai, e tu forse non andrai mai. E finalmente senza fingere niente, senza dirci le che siamo stati, i tuoi piccoli segreti. Ancora un tutto esaurito al Prato di Arezzo per il quarto appuntamento della 25esima edizione del Mango Music Fest, protagonista della serata, uno degli ospiti indubbiamente più attesi, Motta, che è tornato in città con un nuovo spettacolo. Tu racconti delle storie? Dovrebbe essere sempre quella responsabilità, quando uno scrive una canzone è perché ha qualcosa di importante da dire, se no non c'è bisogno di farlo per forza. Che entusiasmo tutto il pubblico, ti aspettava da molti giorni, sei contento? Di questo amore che la gente ha. Io sono contento di questo tour, mi sto divertendo tanto. A chiudere la serata l'after show di Mischetta, la rapper che nasconde la sua faccia in ogni video e apparizione pubblica, ma è che ha già conquistato una larga fetta di pubblico. È un momento importante come tutti e importanti sono i momenti della vita. Bisogna viverla pieno e io non posso negare che la sto vivendo a pieno con le mie ragazze. Al di là dei ben pensanti, il contenuto delle sue canzoni è un contenuto bello, forte perché soprattutto racconta la realtà. È vero, nel senso che comunque tutte le canzoni derivano da esperienze mie o da vissuti che ho visto da vicino, quindi sono cose che appunto realmente accadono, nel senso ai ben pensanti lasciamo le cene dei balconi romani. A noi ci diamo i concerti qui ad Arazzo. A noi ci diamo i concerti qui ad Arazzo. A noi ci diamo i concerti qui ad Arazzo.